Allora, questo strano Shack e Tra, la differenza tra Shack e Tra e Shack e Tra? Allora, il nostro si chiama Shack-Tra perché è proprio uno di origine dialettale che vuol dire schiaccia e tira. Quindi è un vino rosato dove le uve stanno a contatto pochissimo col mosto, col pigiato, proprio per dare solo un piccolo colore a seconda della cantina, se vuole dare più o meno intensità di colore, ma rimaniamo sempre sul rosato. Lo Shack-Tra viene fatto quasi esclusivamente con l'ormeasco, cioè con l'ormeasco, mentre esiste anche una versione, ma non può essere chiamato Shack-Tra perché è fuori dalla doc ormeasco di Pornassio, con il vitigno rossese di dolceacqua. Shack-Tra invece è un vino passito, dolce, delle Cinque Terre, che è un assemblaggio di tre vini diversi, di tre uvaggi diversi, di tre vini diversi che sono Bosco, Albarola e Vermentino. Le uve vengono pigiate, cioè vengono fatte appassire in modo naturale su graticci a contatto con una reazione in modo da non formare muffe e poi viene pigiato con un'alta concentrazione di zuccheri e si fa un vino passito. Quindi sono proprio due vini diversi. Uno si chiama Shack-Tra, una parola unica, invece questo è Shack-Tra, è un vino rosato, secco, fresco, buono per aperitivo, buono con la pizza, come abbiamo provato oggi con un antipasto.